La nostra attenzione adesso è volta a Garbagnate milanese dove in un discorso un furgone ha travolto due ragazzi di 15 anni, uno è morto ed è l'amica invece in gravi condizioni. L'aggiornamento del TG Lombardia e poi qui in studio. Il luogo dell'incidente, lo strescione esposto dagli amici di Valentino, la scritta azzurra, ciao Vale, ci mancherai. I genitori e il fratello, lontani dalle telecamere, hanno lasciato un mazzo di fiori. C'è una pallada basket, lo sport che il 15enne amava, c'è una maglia dell'Inter. Gli amici in lacrime non vogliono più parlare e si fermano per un omaggio in silenzio. A San Vittore è stato interrogato Bogdan Pasca, il 32enne romeno che era al volante del furgone che lunedì sera Garbagnate milanese ha travolto e ucciso Serafino Valentino Colia di 15 anni. Stabili ma sempre gravi al niguarda le condizioni della ragazza di Cesate che era con lui. Davanti al giudice Pasca ha fornito la sua versione dei fatti, il pubblico ministero ha chiesto che rimanga in carcere. La sera dell'incidente aveva un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti, già tre volte era stato denunciato per guida in stato di ebrezza e senza patente. Non risulta che l'abbia mai presa. Ha precedenti anche per maltrattamenti, per questo era affidato in prova ai servizi sociali. Penso alle famiglie, ha detto tramite il suo avvocato. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio il momento dell'impatto. C'è un'unica telecamera nella zona che potrebbe avere ripreso frammenti dell'incidente. Magari alle famiglie ci poteva pensare prima, è la prima considerazione che viene in mente. Ma al di là di questo, la tragedia si poteva evitare? Era in affidamento ai servizi sociali? Il Tribunale lo ha dato a loro. Chi è che doveva controllare la condotta di questa persona? Buongiorno ad Alfonso Cialotto, docente di diritto costituzionale Roma 3. Buongiorno a Maurizio Fiasco, sociologo. E in collegamento Mirella Silvani, consigliere segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Partiamo proprio da lei. Allora, buongiorno. Si è detto che l'autista era in stato di ebbrezza, che aveva già dei precedenti. E io vorrei capire, quando un tribunale emette una sentenza, in questo caso affidamento ai servizi sociali, come funziona quando una persona viene affidata a voi? Prima di tutto vorrei esprimere la vicinanza, il dolore per quello che è accaduto. E questo è il primo elemento che mi sento di rappresentare a nome di tutta la comunità professionale. Poi entrando nel specifico del tema. Allora, tutto ciò che riguarda le misure alternative al carcere rientrano all'interno del nostro ordinamento giudiziario di procedure in cui il servizio sociale interviene nel rispetto appunto di quella che è l'ordinamento giudiziario nostro che si è sviluppato nel tempo adeguandosi anche in linea con quelli che sono gli indirizzi. Scusi, dottoressa, l'interrompo. Non ho capito quello che lei sta dicendo. La mia domanda era molto diretta. Chi controlla una persona quando viene affidata ai servizi sociali? Non più il tribunale che l'affida a voi. C'è una persona, un assistente sociale che fa rapporto, che controlla, che ha un rapporto diretto? Sì o no? Il controllo è dopo. Allora, le persone che sono affidate al servizio sociale sono affidate al servizio sociale sulla base di un programma di trattamento che prevede al suo interno un sistema di monitoraggio e verifica che è su due canali. Uno rispetto al trattamento, al programma di recupero finalizzato ad evitare le recidive che è un monitoraggio e una verifica che viene fatto attraverso il servizio sociale. E la seconda? La seconda è quelli che sono i controlli e le verifiche proprio della polizia. Bene. Quindi sono due canali di controllo che comunque tutti i programmi prevedono queste due funzioni. Mi scusi se la interrompo. Per quanto attiene la vostra esperienza. Se io vengo, salve, sono di Berio d'Imperi, ho guidato in stato di ebrezza, la sentenza l'avete letta, voi vi fidate della mia autocertificazione o controllate? Perché se lui non aveva la patente e un assistente sociale, quello che lo ha in carico, dice cosa hai fatto oggi? Ho guidato il furgone. Ma come? La patente non ce l'hai? Mi faccia capire. No, allora, le stavo spiegando appunto nell'intervento d'avvio proprio qual è il meccanismo. Allora, nel momento in cui viene affidato al servizio sociale, perché a Monte il Tribunale di Sorveglianza ha deciso e valutato che per richiesta dell'interessato e del suo avvocato c'è la possibilità di misure alternative. Su questa base il servizio sociale dell'ufficio di esecuzione penale esterna svolge un'indagine, una valutazione che è una fotografia di quelle che sono le condizioni, le situazioni sociali, le possibilità, l'abitazione, le sorse economiche, la possibilità di svolgere un lavoro o altro. e contemporaneamente c'è un controllo che viene fatto dalla polizia su quegli aspetti che sono più legati ad eventuali precedenti, ad eventuali sospensioni delle patente, eventuali altre denunce. Il complesso di queste due valutazioni ritorna al giudice di sorveglianza che a quel punto dispone sulla base di un programma la misura alternativa. È un programma, quello che viene fatto di trattamento, che è finalizzato e che è sviluppato in Italia per circa 120.000 persone, che prevede dei monitoraggi. Scusi, fermi perché stiamo dicendo sempre la stessa cosa, Silvani, e io continuo a non capire, allora chiedo a Celotto. Celotto, come funziona? Lei che è un costituzionalista. Quindi da quello che mi sta dicendo la dottoressa Silvani, ci sono questi due controlli, però comunque poi bisogna far rapporto e andare dal giudice. Insomma, di chi è la colpa? L'ho messo controllo. Allora, premesso che il caso è tragico ed è veramente sempre terribile quando muore soprattutto un giovane, un ragazzo. Il sistema, parliamo del sistema. In Italia noi abbiamo 50.000 detenuti, di cui circa 700 la vergastano, e 10.000 in attese di giudizio. Poi ci sono più di 100.000 persone che hanno commesso reati meno gravi e che quindi sono affidati ai servizi sociali. Perché? Perché sappiamo che la pena deve essere rieducativa. Quindi nei casi che il tribunale valuta meno gravi, invece di farti restare in carcere, ti affida ai servizi sociali e quindi ti affida a due canali. Il controllo della polizia e i servizi sociali che ti affiancano nella vita per cercare di andare a capire come poi devi rientrare nella società. Ora, in questo caso, a me da avvocato, la cosa che più mi stupisce è che questo signore guidava un furgone della società. Perché se veramente era stato autorizzato senza patente, con tutti i precedenti, a lavorare nella società per fare un autista, questo è grave per la società. Ma va accertato. Per il resto, l'affida ai servizi sociali, da quello che ho letto, lui era inibito a uscire di casa dalle 23 alle 6 e purtroppo quindi alle 22 poteva uscire. Sì, però c'è qualcosa che non mi torna, Celotto, mi perdoni. Allora, l'azienda, se dai servizi sociali mandano una scheda, dicono allora ha avuto questo, 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 immagino che qualcuno, il giudice, l'avvocato, i servizi sociali, debbano mandare all'azienda che si fa carico di questo reinserimento una scheda. Se sulla scheda c'è scritto che lui ha la patente, l'azienda in teoria, brutto dirlo, ma... Non fai l'autista, ma farai lo scaricatore, il portinario, farai un'altra cosa se non hai la patente, giustissimo. La sensazione è che ci sia una lunga catena di errori. Fiasco, che idea si fa? Il punto è che non c'è una riduzione a unità del processo di controllo sociale sulle condotte disfunzionali, sulle condotte devianti, persino in termini di reato. Cioè, è vero quello che dice la dottoressa assistente sociale, è come quello che dice il... Te ringraziamo per... non è facile essere... Assolutamente. Il punto è che noi non abbiamo, fuori dell'esecuzione penale in carcere, un sistema efficiente di controllo sociale che realizzi il coordinamento tra le diverse agenzie. Cosa sono le agenzie? Sono la polizia, sono i servizi sociali, sono le amministrazioni locali e anche il territorio con altri suoi presidi. Dentro questo ci sono delle falle, per cui è semplice sfuggire al controllo sociale, fino agli esiti tragici, come abbiamo registrato in questo episodio di cronaca. Premesso che i servizi sociali sono sempre sottodimensionati, che devono fare i conti con tutte queste cose... Io vorrei capire una cosa, proprio da uomo della strada. C'è una condanna, la cui pena prevede che venga dato in affidamento ai servizi sociali, i quali riceveranno un rapporto dal giudice, immagino. A quel punto, con il rapporto del giudice... Non c'è un automatismo, se non puntiamo l'attenzione sul processo di servizio... Che vuol dire processo di servizio? Significa che dal momento della presa in carico, allo stabilire il trattamento che deve essere sottoposto a quella persona, alle varie entità che lo seguono, deve esserci un processo continuo di... Bene, ma ci sarà un monitoraggio per sapere che cosa fa questa persona dalla mattina alla sera? Un'assistente sociali dice, cosa hai fatto oggi? Come funziona, Silvani? Ce lo spieghi lei. Allora, il monitoraggio viene fatto secondo il programma iniziale, proposto e approvato, e ovviamente non può essere un monitoraggio quotidiano. Noi facciamo semplicemente un ragionamento sul numero di quelle che sono le esecuzioni esterne, che appunto si aggirano intorno ai 120.000 persone, e rapportiamo al numero di quelli che sono gli assistenti sociali, gli operatori che comunque operano all'interno degli UEP in questo momento, che sono 1.400 all'incirca, noi possiamo evidentemente dire che non è possibile e pensabile un controllo quotidiano. E allora che facciamo? Giochiamo alla roulette russa sperando che non ci scappi il moto? Manca un anello in questa catena, che nei paesi anglosassoni è importante, che è il probation officer, cioè la figura che controlla il coordinamento del trattamento e delle misure. Questo è il punto. In Italia un investimento su questa figura non è stato mai fatto, per cui abbiamo uno scarto tra il controllo rigido in carcere e il controllo del trattamento di affidamento ai servizi sociali, che quindi non può colmare questo vuoto. La dottoressa, cerco di capirla, ha ragione, perché manca questa figura. Quindi lo Stato però esce sconfitto. Certo che esce sconfitto. Come glielo spieghi al papà che ha perso un figlio? Ma certo che esce sconfitto, ma il problema è che nelle polemiche che si fanno sulla sicurezza, una pragmatica, cioè un focus sulle cose che servono e che vanno costruite e messe a punto, purtroppo sfugge. Il GIP lo dice nel commentare della vicenda. Assenza di una piena consapevolezza della gravità di quanto accaduto e carcere per impedire la reiterazione dell'allarmante condotta posta in essere. Ma perché oggi si beve così tanto? Perché oggi non si capisce che un'automobile è uno strumento atto anche a uccidere? Perché prevale la cultura della condotta a rischio, dello sballo, della prova ordatica. Ma che cosa è successo nella nostra società? Si è creato un clima e anche un'esposizione, un'esposizione nel vissuto quotidiano, e possiamo anche dirlo nei canali social, persino nei media, dove la prestanza, il comportamento di sfida, il comportamento a rischio, è gratificante ed è socializzante. Quindi questo vale sia per quelli delle classi superiori, ma persino negli strati più plebei, nazionali e non. Celotto, lo Stato non ne esce bene in questo caso. Quindi cosa si potrebbe fare? Lo Stato non ne esce bene perché leggiamo i numeri. Noi abbiamo 120.000 persone affidate ai servizi sociali e poche migliaia di assistenti sociali. è il problema di una migliore organizzazione, perché è la catena di controllo. Ecco, abbiamo un problema col collegamento, come sempre, raggiungiamolo al telefono per favore. Evidentemente c'è qualcosa che non va e bisogna prenderne atto. Non va, non funziona la catena controllo. Veloce, no, proprio non ci siamo. Evidentemente c'è un problema di carattere sociale e di carattere legale. Di carattere legale e di carattere legale di modello di controllo esterno al carcere. Cioè una declinazione effettiva con una pragmatica costruita su come controllare i comportamenti trasgressivi di chi è stato istituzionalizzato come quel ragazzo all'esterno del carcere non è stato affrontato. Questo è il punto. E' per lo Stato, perché il richiamo simbolico dell'invettiva o della norma che inasprisce le pene è talmente forte che fa agio sulla pragmatica, cioè sulla risposta pratica che serve. Allora, ci dobbiamo salutare. Il tema è stato sviscerato in parte. C'è un problema di collegamento e comunicazione come al solito la coperta è corta. La Silvani ha detto, sono pochi. in relazione al compito gravoso che devono gestire. Però tutto questo, come dire, che è comprensibile, è poco accettabile da chi sta vivendo un dolore con il quale è impossibile convivere. Però era giusto parlarne in questi termini. Certo, poi ci sono i controlli, la polizia, l'alcoloc, tutto quello che volete. Però qualcosa non funziona in questa catena. E non è giusto che si debba poi stare qui a parlarne perché un padre piange, un padre, una madre, una famiglia, piangono un figlio che non c'è più. Grazie a Maurizio Fiasco, Alfonso Cialotto e Mirella Silvani.